E' il caso degli studenti che vivono lontano dalle proprie città di appartenenza, giusto capire il meccanismo per recarsi alle urne senza difficoltà. Ci spiega il tutto il responsabile dell'ufficio elettorale del comune di Pagani, Vincenzo D'Angelo. Infatti la massima attenzione nostra come ufficio elettorale è preposta soprattutto ad avere un'informazione continua con la prefettura. L'ultima circolare che ci hanno mandato è riferita proprio agli studenti fuori sede che hanno due possibilità. Per coloro i quali operano qui come studenti e sono residenti però in altre zone, se la loro zona rientra in una circoscrizione diversa dalla nostra, quella elettorale, dovranno per forza andare a Napoli a votare. Se invece rientrano nella nostra circoscrizione sarà mio compito inserirli in qualche elenco e fare in modo che quei ragazzi possano tranquillamente esercitare il loro diritto sacrosanto di voto. Questo vale per tutte le circoscrizioni. L'unica differenza è che dovranno fare un documento, un allegato che è inserito all'interno della circolare della prefettura, questo modulo lo porteranno presso gli uffici elettorali o eventualmente al comune e sulla base di quelli io dovrò operare, ma come io, tutti gli altri ufficiali elettori. Entro il 15 maggio bisognerà presentare questo documento di volontà di esprimere il proprio voto nella città di Pagani. Entro la domenica del 5 maggio, 5 maggio. Entro il 5 maggio dovranno, il modulo ce l'abbiamo qui per farlo vedere, quindi entro il 5 maggio gli studenti dovranno comunicare, compilando questo modulo, di voler votare nella città di Pagani tutti coloro che non risiedono. Diciamo che il modulo va bene per tutti, poi eventualmente in questa sede, in questo luogo, andremo a catalogare. Se il cittadino, lo studente, vota e la residenza sua coincide con la nostra circoscrizione, non ci sono problemi, lo farà qui. Altrimenti gli diremo e prenderemo tutta la documentazione, si dovrà arrecare a Napoli a votare. In maniera differente invece funziona per gli studenti paganesi che sono fuori. Sì, è la stessa cosa, però in genere stiamo già avendo molti ragazzi che ci stanno chiedendo questa informazione. Però da quello che ho notato, dal nostro anagrafe elettorale, molti sono già residenti qui, quindi già normalmente votano qua. Per cui ho semplicemente detto, venite, prendetevi la tessera perché quest'anno vale anche per i diciottenni, coloro i quali hanno fatto, compiono il diciottesimo anno. A entro l'otto noi siamo già pronti per stampare le tessere elettorali perché è la prima volta che voteranno. E quindi, mentre sta già in questi 870 degli amici di San Degidio, per quelli di Pagani, nella nostra area, possono dalla prossima settimana, in qualsiasi momento, nell'orario di ufficio, anche il lunedì, il mercoledì e il venerdì, tranquillamente venite qui e non dovranno fare altro che chiedere dell'ufficio elettorale e gli sarà consegnata la tessera. Stesso ITER per gli studenti dell'agro, paganesi, insomma di queste zone che studiano fuori, dovranno comunicare nel comune dove studiano di voler votare. Il modulo lo faranno lì dove operano e valgono le stesse regole che valgono per noi.